Con l'inizio delle festività natalizie è stata aperta alle visite anche la seconda torre, lato nord, della Basilica Cattedrale Maria Santissima Annunziata di Acireale, dove è stata allocata la mostra a tema natalizio Admirabile Signum. Trascorsi 800 anni, dal primo presepio rappresentato da San Francesco d'Assisi a Greccio, riviviamo lo stupore e la meraviglia di Betlemme nel suggestivo scenario delle torri della Basilica Cattedrale. Dopo l'apertura nel 2019 della torre campanaria lato sud, la torre nord adesso è fruibile alle visite turistiche dopo i lavori di restauro e messa in sicurezza. Dalle torri si può godere, oltre che di una eccezionale visuale sulla città di Acireale e sull'Etna ammantata di neve, di un panorama di incomparabile splendore con vista che spazia da Augusta alla costa Calabra. Le due torri, inoltre, sono comunicanti tra di loro. L'esposizione, con la scena della natività e 11 pannelli esplicativi della storia del presepe, sarà visibile tutti i giorni fino a domenica 7 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 e 30 alle 20. Nei giorni festivi l'apertura serale si protrarrà fino alle 22. Con l'apertura della seconda torre, ha dichiarato il parroco Don Mario Fresta, la diocesi e la città di Acireale si riappropriano di un bene artistico architettonico. Dall'alto si può apprezzare un magnifico panorama. Inoltre, il presepe allestito all'interno offre una suggestiva rappresentazione della natività che domina la nostra città. L'obiettivo è quello di attirare visitatori, invitandoli in questa particolare location a riflettere sul mistero della bellezza della vita e del creato, ha concluso Don Fresta.